Le due scosse di terremoto di ieri pomeriggio hanno riportato all'Aquila la paura. Oggi scuole e università sono rimaste chiuse, ma qualche polemica c'è perché ci sono diverse riflessioni da fare. Motive precauzionali, così è stato detto, per fare le verifiche del caso. 14 anni dal terremoto, una città ricostruita, scuole ancora nei muspo che dovrebbero essere sicuri, due scuole rifatte che dovrebbero essere quindi sicure. Con le superiori in muratura, ma anche qui dopo 14 anni, ci si aspetta sicurezza. E quindi si chiude per quale motivo, si chiedono molte. I comitati cittadini sono stati critici da anni, si battono per la sicurezza delle scuole. Chiudere cosa significa? Che non si è pronti in caso di emergenza? Che non si è pronti ad evacuare? Che non ci sono aree di accoglienza attrezzate? Semplice precauzione per verificare? Non si può pensare a una zona sismica come l'Aquila e le scuole vengono chiuse con una scossa di 3.7. Questo fa sorgere un sacco di domande e la prima domanda che ci siamo posti un po' tutti, se hanno chiuso, cosa c'è dietro? Significa che gli edifici non sono sicuri? Oppure non si riesce a gestire la sicurezza delle scuole? E se fosse successa la scossa durante l'orario di lezione, poi gli studenti dove sarebbero andati oltre che uscire dalle scuole? Ci sono dei spazi in cui le persone si concentrano, dei spazi sicuri in cui bisogna andare dopo l'uscita della scuola? Questa è una domanda che avremo tutti noi aquilani nel prossimo futuro. Per quel che riguarda il terremoto in sé le scosse sono state due, ravvicinate di magnitudo 3.7-3.7, l'area è quella dell'evento principale del 6 aprile, ma le profondità sono diverse. Il professor Gianluca Ferrini, docente di rischi naturali dell'Aquila Aquilano e componente di Geolab e dell'Unità di Crisi, Unità di Crisi che si è riunita proprio questa mattina in università, spiega che l'Aquilano è costantemente interessato da questo tipo di attività sismica. Sono scosse che rientrano nella normale attività sismica del bacino aquilano. Se noi guardiamo le scosse strumentali che ci sono state anche nei giorni precedenti, vediamo che l'attività è sempre in corso, anche se ovviamente non è percepita perché le energie liberate sono basse. Dal punto di vista della meccanica del terremoto, cioè proprio dell'epicentro, si vede che la struttura che si è messa in movimento è la solita struttura a direzione appenninica con questa attività distensiva rispetto al bacino, quindi direi niente di nuovo.